Royal Caribbean e MSC, due fra le principali compagnie del settore croceristico, hanno presentato un'istanza per un paternariato pubblico privato volto alla presa in carico dei servizi del comparto delle crociere nel porto della Spezia. A renderlo noto è l'autorità di sistema portuale con evidente soddisfazione viste le potenzialità già dimostrate in questi ultimi anni dal turismo croceristico a beneficio dell'economia cittadina. Se da una parte nessuno si è presentato all'asta per la vendita delle quote di Discover e il tema Waterfront attende i tempi della politica, l'economia non aspetta. Royal e MSC confermano con questa proposta l'interesse per lo scalo spezzino e la necessità di agire e rinnovare il frontemare con strutture e servizi. L'istanza prevede che il servizio croceristico venga da prima svolto nelle strutture attuali, costituite dal Moro Garibaldi lato ovest e dall'esistenza Terminal Crociere. In seguito, non appena realizzato il nuovo molo, il servizio verrà ampliato e potranno partire gli investimenti proposti, relative alla costruzione di un nuovo e più ampio terminal funzionale alla necessità di ampliare il servizio a più navi, comprendente anche un edificio multifunzionale che sarà adibito a parcheggi, spazi per i servizi tecnico-nautici e nolleggio di auto, moto e biciclette. Con la nuova struttura saranno previsti anche aree dedicate all'esercizio di attività sportive, attraverso la realizzazione, sempre a cura delle due compagnie proponenti, di un parco urbano dedicato allo sport. Tra i due edifici verrà realizzata una copertura molto ampia che, soprattutto in assenza di navi, per esempio in orario osterale, costituirà un grande spazio coperto di valenza pubblica per concerti e manifestazioni di qualsiasi genere, con un utilizzo analogo quindi ad altre realtà simili. Dobbiamo verificare la completezza di tutta la documentazione precisa alla Presidente Roncallo, così come previsto dalla normativa vigente, e saranno richieste integrazioni se necessario. In ogni caso, nei prossimi 90 giorni dovremo svolgere un approfondito lavoro per esaminare il piano economico-finanziario e per valutare il progetto di fattibilità proposto, acquisendo anche un preliminare parere dal Comune e dai soggetti pubblici preposti. Grazie a tutti.